Strati sotto un tavolo e tirati su con entrambe le mani stendendo le gambe e mantenendo i talloni al suolo. Il corpo forma una linea retta. Ripeti l'esercizio dieci volte, in totale esegui tre serie. Per semplificare l'esercizio basta alzare la parte superiore del corpo tenendo le gambe a terra. Per rendere l'esercizio più difficile esegui l'esercizio il più lentamente possibile.